Weekend di controlli della Polizia Stradale di Arezzo, un centinaio di accertamenti al casello dell'autostrada del Sole, finalizzati a contrastare il fenomeno dell'uso di droga e alcol al volante. I poliziotti, assieme ad un medico e al personale sanitario della Questura, hanno eseguito 98 controlli che hanno portato alla denuncia di due persone sorprese alla guida in stato di ebrezza alcolica. Per entrambe è scattato il ritiro immediato della patente di guida per la successiva sospensione. Durante i controlli sono stati poi sorpresi tre automobilisti alla guida di auto non in regola con la revisione. Oltre alla multa, sono stati costretti a recarsi alla motorizzazione civile per i controlli tecnici di legge. Sempre nella notte, un equipaggio impegnato nei controlli al casello si è dovuto sgangiare per correre a rilevare un incidente dove una donna, dopo aver impattato più auto in sosta, si era acappottata, riportando lievi lesioni.